Eccoci pronti per una nuova edizione del nostro Tg, ma cominciamo subito dal sommario. In un documento unitario i Vescovi Calabresi bocciano l'autonomia differenziata, hanno alla disunità nazionale, affermano rivolgendosi alle loro comunità, non restate indifferenti e l'appello dei presoli che invitano alla mobilitazione. Sale a quattro il bilancio delle vittime dell'incidente avvenuto sulla statale 107 nel Crotonese il 25 febbraio scorso, morta la 53enne, madre della ragazza deceduta qualche giorno fa, nell'impatto ha perso la vita anche una giovane coppia di Crotone. Bevacqua e Iacucci spiegano la posizione del PD in merito al progetto di fusione tra Cosenza, Rende e Castro Libero e si dicono d'accordo, ma propongono una costituente. Discariche con rifiuti speciali individuate e sequestrate alla Mezzia Terme e l'operazione della Guardia di Finanza nel Mirino, aziende specializzate nella demolizione di autoveicoli. L'aria migliore la respirano i crotonesi e quanto emerge da un'indagine del quotidiano il Sole 24 Ore costruita sui dati forniti da Trebbi Meteo. I calciatori del Cosenza, ospiti del liceo classico, gli studenti hanno posto domande sul futuro della squadra, tra curiosità e passione per questo gioco. Ben ritrovati, nuova edizione del nostro Tg che apriamo con il No dei Vescovi Calabresi all'autonomia differenziata, siglato un documento unitario in cui il cui titolo è emblematico No alla disunità, questo è il titolo del Paese. Poi c'è anche una parte pratica in questo documento in cui i presuli sostanzialmente invitano le comunità a mobilitarsi in maniera democratica contro il DDL Calderoli. Partiamo da qui. I Vescovi Calabresi sono tutti sulla stessa linea e siglano un documento dal titolo che non lascia spazio a dubbi la disunità nazionale e le preoccupazioni della Chiesa di Calabria, spunti di riflessione pubblicato dalla conferenza episcopale Calabra, nella quale si esprimono profonde preoccupazioni riguardo all'autonomia differenziata. D'altronde, il Vescovo di Cosenza, Monsignor Giovanni Checchinato, sabato scorso ha preso parte alla mobilitazione nella città dei Bruzzi. Lo stesso Monsignor Savino, Vescovo di Cassano all'Oionio, si è espresso pubblicamente contro il DDL Calderoli. Il documento dunque rafforza le posizioni della Chiesa, proponendo una visione di crescita armonica per l'intero territorio nazionale. Infine, i Vescovi si rivolgono alle loro comunità affinché non restino indifferenti di fronte alle sfide poste dalla legge sull'autonomia differenziata e incoraggiando l'organizzazione di occasioni di approfondimento e di pubblica discussione. C'è necessità, conclude il documento, di promuovere forme di mobilitazione democratica che legano solidarietà e giustizia. Altra notizia maturata nel pomeriggio è sostanzialmente un aggiornamento rispetto all'incidente che si è verificato il 25 febbraio scorso sulla SS 107. Purtroppo si aggrava il bilancio delle vittime. Salgono a quattro i morti di quel terribile impatto. Infatti, dopo un mese di ricovero al pugliese Ciaccio di Catanzaro, una donna di 53 anni di Rocca di Neto non ce l'ha fatta. L'impatto, va ricordato, provocò la morte sul colpo di una giovane coppia di crotone e della figlia della 53enne deceduta qualche giorno fa, proprio dovuto in conseguenza ai postumi dell'incidente. Vediamo. Un grave incidente che è diventato nel tempo una strage, lo scontro avvenuto sulla statale 107 in località Brasimato, nel territorio del comune di Crotone, poco dopo il 17, domenica 25 febbraio. A distanza di un mese dal sinistro, le vittime sono salite a quattro. E' morta, infatti, all'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove era ricoverata per i gravi traumi riportati, anche Teresa Greco, di 53 anni, casalinga di Rocca di Neto. La donna era rimasta ferita nell'impatto che aveva provocato il decesso sul colpo di due giovani crotonesi, Piero Riolo e Lorenza Loisio, e il 21 marzo scorso anche della figlia 31enne, Alba Corigliano. La 53enne e la figlia viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf, che per causa in corso di accertamento si era scontrata sull'asfalto reso vicido dalla pioggia con una Fiat Grande Punto, a bordo della quale si trovava la coppia di ballerini di danza caraibica, che stavano tornando a Crotone da una gara svolta nel Cosentino. A causa dello scontro, le due donne erano rimaste bloccate nell'auto ed erano state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco. Le loro condizioni erano apparse subito gravissime e, dopo essere state stabilizzate all'ospedale di Crotone, erano state ricoverate in terapia intensiva al pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove non hanno mai ripreso conoscenza. Quattro morti in un incidente avvenuto su un tratto di strada che è stato teatro di numerosi impatti mortali, una strage senza fine su un'arteria che con la statale 106 e la statale 18 rappresenta un punto dolente della viabilità calabrese in quanto a sicurezza. Tema caldo della politica, la città unica, Cosenza rende Castro libero. Stamattina a Cosenza una conferenza stampa di Bevacqua e Iacucci che spiegano la posizione del Partito Democratico e propongono una costituente. Vediamo. Avevano già dichiarato di non essere contrari a priori alla città unica, Cosenza rende Castro libero, ma di esserlo nei confronti di questa proposta di legge e del metodo utilizzato. Gli esponenti al Partito Democratico Cosentino hanno voluto così chiarire la propria posizione in maniera ufficiale ed hanno lanciato una proposta, ovvero una costituente, per arrivare alla fusione in maniera diversa. E' lo strumento per discutere dell'area urbana complessivamente, della fusione e di come arriviamo alla fusione, perché noi che siamo, diciamo così, positivamente disponibili alla costruzione dell'area urbana di Cosenza e della città unica, vediamo il limite della legge regionale, infatti noi abbiamo votato contro nella commissione consigliare, vediamo un limite che è quello di che è il poco coinvolgimento, di non aver coinvolti i consigli comunali, non aver coinvolti i sindaci, le associazioni, salvo in qualche discussione che si è fatta da soli in commissione stessa. Non è escluso che successivamente, secondo il PD, la fusione possa riguardare anche altri comuni. Intanto in consiglio regionale ed anche in commissione affari istituzionali, il PD ha manifestato il proprio dissenso ed oggi rivendica un ruolo nella nascita della nuova città. Siamo stati protagonisti nel processo molto più complesso, più complicato, difficile, che era quella della fusione di Corriano-Rossano, oggi invece vorremmo essere protagonisti anche in questo processo, naturalmente recuperando lo spirito democratico per cui nasce una proposta di legge o un progetto innovativo di cui stiamo parlando. Quindi oggi lanciamo la costituente dell'area urbana che prevede il convergimento dei sindaci, dei delegati dei consiglieri e dei consigli comunali, delle forze politiche e sindacali e anche delle associazioni, soprattutto nate a Rende, che dicono no al referendum. Ancora per il PD però siamo a Corriano-Rossano che si prepara alle amministrative e il PD cerca di chiudere il cerchio, di stringere con l'uscente, il sindaco uscente Flavio Stasi. Vediamo. Le grandi manovre. Dopo la settimana pasquale il PD le inizierà contando di chiuderle in un tempo brevissimo. L'obiettivo è stringere l'accordo con Flavio Stasi, sindaco uscente di Corriano-Rossano. Da quel che si percepisce il PD si aspetta un segnale da Stasi, nel senso che vorrebbe una specie di primogenitura per la ricandidatura recuperando in buona sostanza le incomprensioni della prima sindacatura. Più o meno a zeramento e ripartenza, con nuove motivazioni e un progetto più ambizioso. Posso dare in qualche modo una notizia di queste ore. Io ho avuto un'interlocuzione sabato scorso con il sindaco Stasi, un'interlocuzione molto cordiale che è stata a mio avviso positiva. Il sindaco ha aperto al contributo del Partito Democratico, ha aperto anche all'impegno dei nostri uomini e delle nostre donne all'interno del percorso della sua coalizione, quindi immagino poi anche delle liste. E quindi in questo momento noi siamo in attesa di un incontro ufficiale fra il circolo PD e il sindaco Stasi che dovrà avere al centro il programma. Noi ovviamente abbiamo una nostra piattaforma programmatica e quindi lavoreremo per un percorso di condivisione su questa insieme al circolo e insieme al sindaco Stasi. Insomma, il PD spinge ma sulla base di quello che è e rappresenta un progetto complessivo del partito che in quest'area della Calabria, della terza città più popolosa, può e deve recuperare forza e visibilità. La federazione provinciale ci crede, ma è chiaro che tutto dipenderà dall'interlocuzione già programmata per i prossimi giorni. Noi nel 2019 non abbiamo sostenuto Stasi, quindi ci sono riserve e in qualche modo anche divergenze rispetto ad alcune sue impostazioni programmatiche che poi si sono anche sviluppate in questi anni che sono particolarmente forti nel nostro circolo. Noi dobbiamo fare davvero adesso la terza città più grande della Calabria. Noi abbiamo questa grande città che necessita anche evidentemente, a mio avviso, di una cittadella dei servizi, necessita ancora di molte attività implementative di quel processo di fusione che finora è rimasto abbastanza diciamo a freddo. E restiamo a Corigliano Rossano perché c'è stata la vista del Presidente della Regione Occhiuto per la candidatura a sindaco a sostegno della candidatura a sindaco di Pasqualina Straface. Vediamo. Il Presidente Occhiuto torna a Corigliano Rossano con tutto il quartier generale di Forza Italia per sostenere la candidatura a sindaco di Pasqualina Straface. La partita delle urne di Corigliano Rossano sarà sicuramente la più importante della Calabria. Lo dimostra il fatto che è la seconda volta in pochi giorni che Occhiuto torna nella terza città più grande della Calabria. Del resto Pasqualina Straface non solo è rappresentante forzista ma è espressione diretta dello stesso governatore. Sono molto riconoscente a Pasqualina Straface perché sta facendo un lavoro straordinario in Consiglio regionale e per me perderla in Consiglio regionale è appunto una grave perdita ma spero invece che possa utilizzare la sua esperienza, il suo equilibrio, le sue capacità, la sua grinta per essere un sindaco straordinario. Quindi è evidente che io tifo per Pasqualina Straface, sindaco di Corigliano Rossano. Ad accogliere Roberto Occhiuto anche il consigliere regionale Giuseppe Graziano e la sua azione che ha deciso di fare un passo indietro e aggregarsi alla coalizione del centro-destra. Credo abbiamo fatto una candidatura, quella di Pasqualina Straface, che sia utile a vincere le elezioni in questa città importante, una delle più importanti della Calabria. L'azione ha dei dirigenti di primissimo livello, di grande qualità e sono molto contento che abbiano capito che insieme si vince, divisi invece si rischia di far vincere gli altri. Di scariche abusive, di rifiuti speciali pericolosi, fabbricati industriali, un'autocarrozzeria, impianti di lavaggio, tutti del valore complessivo di circa 4 milioni di euro, sono stati sequestrati dai finanzieri di La Mezzia Terme e dai militari del nucleo operativo della Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto di Vibo Valenze, particolari nel servizio. Una distesa di rifiuti speciali pericolosi esposti agli agenti atmosferici e così il percolato prodotto dal dilavamento è stato assorbito dai terreni con il conseguente inquinamento delle falde acquifere presenti. Uno scempio ambientale scoperto dai finanzieri del gruppo di La Mezzia Terme e dai militari del nucleo operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto di Vibo Valenze nel corso di un'operazione coordinata dalla Procura Lamettina. Nel corso del blitz sono state sequestrate discariche abusive di rifiuti speciali pericolosi, fabbricati industriali, un'autocorzeria e impianti di lavaggio, tutti del valore complessivo di circa 4 milioni di euro. Le verifiche seguite con l'ausilio del personale tecnico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Calabria hanno consentito di accertare un'illecita gestione di rifiuti pericolosi creata ad hoc per incrementare i profitti. Sarebbero state così realizzate delle vere e proprie discariche abusive a cielo aperto per non pagare i costi di smaltimento. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati un impianto di lavaggio, un capannone industriale, un'autocorrazzeria abusiva e tre aree adibite discariche abusive della superficie complessiva di oltre 12 mila metri quadri. Reati ambientali e violazioni all'arromativa urbanistica contestate agli amministratori delle società ed imprese individuali controllate. Durante le verifiche inoltre sono stati scoperti diversi lavoratori infiegati in nero e violazioni di natura previdenziale e fiscale. E ora vi mostriamo le immagini dell'esercitazione congiunta tra l'aeronautica militare e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino a Frascineto. Vediamo. Eccoli i militari del Soccorso Alpino, gruppo speleologico della Calabria che in collaborazione con l'aeronautica militare hanno effettuato nella zona timpone del Crivo a Frascineto un'esercitazione congiunta di soccorso aereo mediante la simulazione di soccorso di persone in difficoltà in ambiente impervio e montano. Lo scenario individuato è stato quello delle aree comprese nel versante meridionale calabrese del Parco Nazionale del Pollino, in particolare nella zona di Frascineto. Gli operatori e gli equipaggi si sono addestrati alle procedure operative di sicurezza volo, agli imbarchi e sbarchi al suolo ed in hovering, un evento che costituisce un significativo esempio di sinergia tra le diverse specializzazioni e competenze del personale impiegato nel campo della ricerca e soccorso dei diversi enti nazionali. Sono attività che vengono pianificate a livello centrale proprio perché debbano servire per far sì che sia gli equipaggi che i tecnici del Soccorso Alpino abbiano sempre una maggiore affinità nelle manovre di imbarco e sbarco dagli elicotteri, trasferimento in quota, calate con verricello in situazioni limite. Questa attività viene svolta sempre durante l'anno anche perché questi reparti SAR, che in questo caso è quello di Gioia del Colle, sono sempre di supporto anche alla popolazione civile per attività che possono servire per situazioni diciamo così impreviste. E Crotone, la città calabrese, dove si vive meglio? Il dato emerge dall'ultima indagine condotta dalla Sole 24 ore sulla qualità della vita che vede Bari conquistare la medaglia d'oro tra le calabresi. Ultima cosenza che si piazza al 53esimo posto. Vediamo. Sole, brezza e pioggia. Il benessere della popolazione residente non si calcola più solo in base al pil pro capite ma anche considerando tutti quegli elementi che hanno delle ripercussioni positive sul vivere sostenibile degli italiani. In questo circolo una componente importante è data dal clima. Ed ecco che nella nuova indagine Qualità della vita condotta dal Sole 24 ore, Bari si colloca al primo posto della classifica delle città dove nel decennio 2013-2023 si vive meglio in base alle giornate di sole, alle temperature e alla brezza, soltanto per citare alcuni parametri che misurano le condizioni del bel tempo. E la Calabria come si posiziona? In Miorclima si registra Crotone che conquista su scala nazionale il 14esimo posto, subito dopo Catanzaro, mentre bisogna scendere al 37esimo posto per ritrovare Reggio Calabria, al 44esimo Vibo. Chiude la classifica delle calabresi Cosenza al 53esimo posto. Tuttavia il clima anomalo con ondate di calore ed eventi estremi mostrano il lungo e il largo dello stivale, ma non solo, quanto sempre più stringente sia l'emergenza climatica e questo non sancisce di certo lo stare meglio. Viaggio a Bruxelles per alcuni studenti calabresi. Avranno modo di confrontarsi e conoscere meglio le istituzioni europee. L'iniziativa è stata presentata a Catanzaro nei locali della cittadella regionale. Vediamo. L'entusiasmo e l'emozione degli studenti calabresi che dal 9 all'11 aprile saranno a Bruxelles per un viaggio di studio che consentirà loro di toccare con mano il funzionamento delle istituzioni europee. Ecco i giovani che avranno l'opportunità di acquisire questo importante bagaglio formativo e trasferire poi in Calabria. L'iniziativa presentata a Catanzaro nella sala verde della cittadella regionale. Insieme ai dipartimenti programmazione unitaria e istruzione abbiamo organizzato questo importantissimo viaggio formativo a Bruxelles di tre giorni che renderà protagonisti in un percorso di cittadinanza attiva all'interno del Parlamento europeo perché attraverso workshop Project Work i ragazzi diventeranno consapevoli di quelle che sono le opportunità delle politiche europee per i giovani e quindi riverbero nel loro territorio e così garantiremo quella formazione che sarà il presupposto della crescita dei nostri territori. Lavoriamo affinché quelli che studiano in Calabria rimangano in Calabria e quindi che i tanti giovani che abbiamo negli anni perso possano rientrare. Il viaggio formativo predisposto alla Camera di Commercio Belga è offerto alla Regione Calabria a 66 studenti di 19 scuole calabresi selezionati sulla base della media scolastica e sul livello di certificazione linguistica in inglese. Saranno accompagnati da 5 docenti scelti per il livello di certificazione linguistica e per la partecipazione a progetti Erasmus e a esperienze formative all'estero. Noi abbiamo avviato un percorso che è questa scuola di open coesione, la SIGLASOC, e l'abbiamo fatto perché era importante che i nostri ragazzi dovranno avere un confronto con il resto d'Italia. Poi vincere in Italia come migliore gruppo è stata una grande soddisfazione e questo è il giusto riconoscimento e va dato ai ragazzi. Ora lo sport con il Cosenza, questa mattina protagonista di un'iniziativa che vede coinvolte le scuole della città e della provincia. Vediamo. C'è solo una strada, quella di avere la consapevolezza che bisogna dare di più, bisogna lavorare di più, essere più determinati e cercare di trovare quel millimetro che ti può aiutare a spostare l'inerzia. Serve spostare l'inerzia, invertire il trend e rimettersi in corsa per allontanare prima possibile la zona calda della classifica. Parola di Roberto Gemmi che oggi insieme ad un gruppo di calciatori al responsabile marketing Rosanna Mortati ha aperto un percorso intitolato i lupi nelle scuole partendo dal liceo classico Telesio di Cosenza. Meroni, Florenzi, Praslich, solo per citarne qualcuno, non ci sono sottratti alle domande dei ragazzi incuriositi ed ansiosi di conoscere le storie, il pensiero e il percorso di ragazzi come loro che sono riusciti attraverso una strada irta ma ricca di soddisfazioni, attraverso il sacrificio e il lavoro ad approdare in Serie B. Cercheremo di regalare una Pasquetta serena a tutti perché in primis ci teniamo noi, siamo i primi a rimanerci male dopo una sconfitta, dopo un pareggio e siamo i primi a gioire per una vittoria. Inevitabile la domanda sulla prossima sfida che arriva dopo 15 giorni di stop nel giorno di Pasquetta quando i Rosso Blu affronteranno al Marulla il Brescia. Io ho una grandissima stima dell'allenatore precedente e credo che sia un ottimo allenatore ma abbiamo poi deciso di fare questo campo con molta difficoltà e con molto dispiacere per cercare di capire se è il momento giusto o sbagliato che sia per dare una mano a cambiare l'idea. Ed è davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a Regia Michele Cava, a Giuseppe Costanzo, in Messino, a noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata.